Lo Stadion Moblight scalda i motori per una sfida che vale una stagione. Sunderland e Leicester City. C'è Larson, è verso il primo palo Schmeichel. Con un quiz superbo. Alla difesa dalle Volpi, l'esuggerimento Grimm, Schmeichel, ancora lui. Tutto regolare. Grande confusione, Marese mette giù. Cross verso un Joach, anche Cambiasso. Fa una nulla. Un'ultima parola. C'è un calcio d'angolo per il Leicester. Johnson è affrontato da Cambiasso. Sposta il pallone, rientra sul sinistro. Ancora Johnson, ma lì c'è sempre Schmeichel. Non si passa. E' un'ultima parola. E' un'ultima parola. E' un'ultima parola. L'uscita di Pantelimone. Non si intende con il portiere Cromaric. Spara fuori a porta vuota. E finisce qui. Il Leicester City è salvo. Per il Sunderland invece ci sarà ancora da soffrire. Decisivi. Il recupero con l'Arsenal. E' l'ultima di campionato con il Chelsea. Su Fox Sports. Sunderland 0. Leicester 0.